Ed ora la parola va a Giuseppe Manfroy, titolare della CMI, un'azienda ormai di 40 anni nella provincia di Belluno, con diverse filiali, sinonimo di qualità, affidabilità e soprattutto massima disponibilità. L'azienda opera dal 1984 e vanta circa 40 anni di esperienza nel settore. Abbiamo iniziato con la riparazione, il servizio relativo alle macchine industriali e Movimento Terra e poi ci siamo ampliati ad altri servizi come il noleggio dal 1993 e la vendita. Il marchio che rappresentiamo del Movimento Terra è il prodotto Caterpillar, che è il prodotto riconosciuto come numero uno al mondo, e trattiamo tutta la gamma delle macchine, dalle pale gommate agli escavatori e alle macchine di completamento, compresi gli accessori. Oltre al Movimento Terra abbiamo il sollevamento, che consta di oltre 250 piattaforme di tutte le tipologie, dalle piattaforme autocarrate alle semoventi, alle macchine a braccio, a pantografo e alle macchine a ragno, in modo da poter assolvere a qualsiasi esigenza di lavoro in quota. L'energia è un altro settore che trattiamo con i gruppi elettrogeni, dai piccoli gruppi familiari fino ai grossi gruppi aziendali, completa di torrifaro e i vari accessori a completamento del mondo dell'energia. Ci occupiamo anche del settore viabilità invernale, con i marchi Schmidt e Annovi, dove disponiamo di tutta la gamma di frese, lame, vomeri e spargisale. Per quanto riguarda il settore agricolo, siamo concessionari del marchio premium John Deere, disponiamo di tutti i trattori, dalle piccole potenze alle alte potenze da campo aperto, oltre che alla linea dedicata all'agricoltura del montagna del marchio Ebi, con i prodotti Terratrack e Transporter. Il fiore all'occhiello della nostra azienda è l'assistenza. Con l'officina Osmi forniamo il servizio di ricambi, multimarca per tutte le macchine a movimento terra e per le macchine a sollevamento, e con i nostri 11 tecnici facciamo riparazioni sia all'interno che presso il vostro cantiere, in modo da mettere in funzione al più presto la vostra macchina.